Siamo qui a edificio studio 3, devo dire un edificio molto nuovo, devo dire che siamo nella zona ghettomega Sicuramente avevano speso poco questo edificio, ma qualche puzza lo fa schifo, sembra uno di quegli edifici post atomici che ci sono a Chernobyl Comunque adesso andiamo dentro, questo è lo studiolo Stiamo entrando dentro lo studiolo Ok siamo dentro allo studio, lo studiolo Allora le modelle devono ancora arrivare, abbiamo questo set qui, il set nero Poi c'è il set bianco, poi c'è il letto Con dei fantasticissimi probolite Poi abbiamo il set motociclette che è lì Adesso non si vede, sono quelli lì Poi abbiamo il set divano Notare anche dentro l'edificio tutto diroccato Ma agli americani piace così, lo stile post moderno, post Chernobyl E' uno stile che piace molto, loft, chiamato anche loft Loft scarso però Guarda D'Arsini, non solo donne Ho fatto le foto con uno strobo, foto fantastiche, proprio da studio Grazie a tutti 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 Guarda di vedere c'è un trasmettitore per il flash Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In questa foto bisogna mettere in settaggi manuali 200, 11 e 100 perché dopo ti danno il trasmettitore per lo strobe, cioè il flash normale, in questo caso vengono scarse le foto, meglio usare quei cosi lì. Questa modella è un po' ciccia. Andiamo a vedere di là cosa succede. So what? We made two kids this time. Wow. So they've done the hair, makeup, everything. They've done a phenomenal job. c'è quella, c'è quella